Ciao a tutti ragazzi sono Mario Kart e oggi stiamo qui in un nuovo episodio della Dark Trilogy con Angel36 Bitches? Allora giochiamo a Nascondino Allora ti cercolo, andiamo a prendere le nostre chest Sono sparite le nostre chest Angel E' sparito tutto qua E' sparito tutto E' sparito tutto E' sparito tutto Non c'è niente Certo certo Vengo a giocare le chest Vengo a giocare le chest Vengo a giocare le chest Oh c'è una casa Oh Oh Non completata io vorrei dire Shhh 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 Ok dai trovami Guarda la minimappa no C'è un cazzo di genio Non ci sei Sei sluggato cos'è No Ci sono ci sono Eh faccio ti sei shiftato Ahahahah Dove cazzo sei Sento terra Dove cazzo sei Dove cazzo sei Dove cazzo sei si sono qui intorno ecco il cazzo faccio la trovate dai esci sto tipo facendo la talpa dai so tipo la talpa giravo sotto ho scavato tipo qua e sono finì là cosa? lo metto come miniatura fidi il cappello come cazzo si fa tagliarsi il cappello h tipo remove in alto io ho questa cosa screen ok questa sarà la miniatura blocchi blocchi ok rilogava perchè? ho tolto la testa ah se l'hai capito allora oggi intanto ti sto facendo una figata sto cuocendo una figata e sto laggando e non ci serve ma questo caso qui come si chiama? ah quarts greenstone quarts greenstone perchè io l'ho rotto col tasto destro ho rotto il quarts cristo con il tasto destro mi servono 4 lingotte di alluminium per farti una cosa figa quindi ti faccio una cosa figa no 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 io voglio cosi non per te non vai a fanculo fai a cagare dai vai vai ok forse no e traveller's belt come cazzo si no io però vorrei dire una cosa alla fine dell'episodio dell'altra volta mi ha fatto questo siamo senza leather? questo qui siamo senza leather? si non ce l'abbiamo questo è uno stone hammer rompe 3x3 della cobblestone poi mi ha fatto anche una pala uguale a questo tipo bellissimo eh si vabbè ci serve leather per farti una cosa figa e allora oggi 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 siccome mi sono stufo di quella cosa facciamo le cose automatiche quindi 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 e siccome la enderio se non sbaglio è nerfata è nerfata enderio 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 se non sbaglio è nerfata quindi non possiamo si l'hanno nerfata dobbiamo cominciare la thermal expansion quindi thermal mettiti il cappello vuoi? no no hanno cambiato un po' di crafting che cazzo è sta cosa? allora allora sono più alto di tutti right quindi ci serve un basic quindi ci serve questa merda qui non ho capito una mazza però e ting gear ma dove l'hai messo tutto il ferro? da quando? da quando ci serve lo steel? dove l'hai messo tutto il ferro? non l'ho neanche toccato io e è tutto il call e è fatto i blocchi ah è tutto il ferro è nella caccia di lingua allora non c'è il ferro qua ce n'è solo 33 eh continuiamo due stack 3 si ho usati ne ho usati 36 per farti le cose fighe quel tavolino aprivedato servono e servono le cose fighe allora volevo fare una cosa io però quanto vedo non possiamo farla e quindi ce ne faremo un'altra allora e com 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 seguimi hai presentato come seguimi che la cosa nera che che c'era cioè la fornace nera la smelte ah si facciamo quello lo spostiamo facciamo quello lo spostiamo esatto quindi intanto la risosera e poi ci servono ma le teste di cazzo qui non le portiamo e qui teste di cazzo eh se vuoi vabbè comunque poi ci servono siccome in questa smelte di merda hanno messo solo i battoni che macchano i componenti ci servono no questi due ci sono due cose ci sono si lo so ma a me servono sono quattro cosa che ci sono ci serve il controller ci serve il controller e poi mi servono un paio di altre cose c'è il casting table si si ma quelli quelli ok ma mi servono altre cose perché è il piccone di 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 blu no di di labislazzoli non è labislazzoli vabbè di blu io ce l'ho io c'ho quella al ketchup io c'ho quello al mirtillo al mio stile proprio si possono rompere si si porta tutto se vuoi anche gli stupi allora ci servono ci servono gravel ci serve gravel ce l'hai tu la pala op no c'ho questa pala e basta aspetta vado a prendere l'altra allora io intanto comincio a assemblare la merda aspetta flash tp ci sei ecco e cuoci mi dai mi dai la tutta la sand della gravel aspetta noi dobbiamo dobbiamo fare un provvedimento drastico aspetta mi devo togliere la cheat mod perché la cheat mod perché tipo stavo in cheat mod e quando sono andato a a buttarti giù la gravel la sabbia me la sono un po' givata però vabbè sabbia mica è diamante per esempio questa va su youtube tieni allora se io faccio così vaffanculo se io faccio l'ho data si lo so ma mi hai chitato vaffanculo vabbè per per prenderla se faccio così non mi ricordo chi colpisce il pig con le palle di neve come cazzo si crea il grouse vabbè io intanto direi di farvi vedere un attimo la casa perché è una merda sta casa però la casa è finita ragazzi cioè voi non avete capito la casa è questa basta voi entrate dietro non è aperto non è chiuso è aperto fucchio allora mentre il grouse cuoce io intanto comincio ad assemblare la furnace la bitches lui intanto che assembla la furnace io finisco la casa gg eh tipo finisco per modo di di cioè faccio un po' dei lavoretti eh io so ste due cose che ho messo tipo così a caso lo messo ah ah si ok quindi facciamo facciamo puoi farla due per due tre per tre o cinque per cinque facciamo un tre per tre stiamo perché tre per tre stiamo stiamo di grandezza media no no ma io lo voglio grosso come un penne di un negro e vento cosa hai capito facciamo quindi ah che bello guarda come dondolo guarda come dondolo co bello che cazzo che cazzo perché con un po' di sire dui che si sono cotti possiamo craftare tutte queste belle cose e abbiamo del vetro che mi dici gg dovremmo gg e poi c'era tipo 60 watt di eh così ho invertito oh sto cazzo da sta cazzo della van non finisce più eh questo ah io metto i letti qui e così poi metto queste fornaci questo lato come minchia si crafta questa merda eh mi dai tipo no niente non voglio niente perché ho un ametista non lo so qui e come cazzo mi sono già dimenticato come si craftavano allora sto facendo un po' di minchiate allora ogni tre di queste c'è una di queste perciò facciamo e uno buttasca mi manca uno un si vabbè si sarà cotto allora allora no me ne mancano di più di uno mettiamo questo io adesso sto costruendo angel poi quando è tutto in posizione ti spiego come funziona anche ok tanto io sto un attimo sistemando la casa perciò with allora abbiamo le doppie fornaci ve lo voglio spiegare un attimo aspetta angel spiega a merlo allora dimmi merlo con questo io dentro questa cosa qui se lo smette di controlla ci posso mettere ogni cosa che voglio tipo fondere poi in questi così qua io apro il rubinetto che è questo dovrebbe essere è che è quello e esce tipo un blocco si giusto adesso ti spiego meglio perché se io prendo il blocco da beh si io prendo il blocco poi lo metto nella tool forge e lo potrei usare per craftarmi no e poi il blocchito si 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 e no allora adesso ti spiego meglio wait allora io so solo la parte interna ok allora i micrafty me lo crafto io no e un allora abbiamo sto un cotta si gg perché qua c'è un cotta e liquid questo faccio qui si craft possiamo scegliere se craftarlo con redstone o enderpearl con cosa lo craftiamo con redstone con l'enderpearl io direi no scusa con la redstone ce l'abbiamo 20 allora allora dammi che cazzo fai stai fermo mi serve uno stack di rezza ok ce l'ho ti ho tolto la testa io ti ho tolto un braccio beh vedo fuori logo allora rimettila nel barile no si ho messo logo e rimedi con netto aspetta perchè sono qua il tuo volaccio non ci vuoi più se no povero vatico faccio un po' faccio un po' di crafting on camera credo adesso non so se lo taglierò o no non penso e tanto è una minchiata mi serve un secchio e due per cinque ok craftato sono abituato a craftarli sullo sky factory perchè hanno craftati tipo 10.000 e allora allora io volevo fare una di questi cosi qua no che hai fatto per contenere i i cosi la redstone e tutto quello la volevo fare però per tutte le altre cose tutto per gli amanti no perchè il goal allora adesso ti spiego questa cosa qua ma perchè hai messo una patta eh dopo ti spiego questa cosa qua serve innanzitutto per sfondere i materiali e ha una particolarità particolare allora se io prendo un aeronauts continua solo con le cose grete tipo con gli oro ok e non fonde tutto ovviamente fonde solo i metalli tardo e lo metti dentro vabbè lo metti dentro allora adesso aspetta io adesso aspetta che lo ho visto ah si hai visto su un video che mettevano i picconi di ferro eh si perché i picconi ferro sono fatti di ferro e il ferro è un metallo eh vedi che lo sapevo ma io voglio vedere che succede qua dentro infatti sto facendo il vetro apposta ma io voglio vedere da qua sopra vieni qua vieni qua guarda è bagato il vetro però capita vedi la tannica la fa bagare però capita allora ecco quando questo si sciuoglie e diventa due cioè si sdoppia come un pulvera ah è come se io facessi questo cosetto qua esatto 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 però che senza che io sprechi gli energi ho messo tutto il ferro possibile immaginabile adesso metto metto anche un hopper così lasciamo il server che madonna cioè è arrivato fino in fondo ce l'ho detto che l'ho messo tutto allora dopo di che dopo di che questa fornaccia qua la puoi usare se vuoi sono un coglione perché adesso non posso più accedere a cosa quindi questo lo mettiamo quando andiamo a FK questo lo mettiamo quando andiamo a FK questa cosa qua lo puoi usare oh si è sciolto oh cattavoglia apri guarda vedi che c'è liquido ho visto e vedi che c'è ingots 2 perché si sono moltiplicati ingots 2 ecco yes e poi come faccio a prenderli poi come fai a prenderli adesso non puoi al momento poi quando si sciolgono tutti tu molli il rubinetto adesso vedi molli il rubinetto e viene giù il liquido ah e scende solo questo come adesso sono solo due lingotti non si riempie perché per fare un blocco ce ne vogliono 9 ovviamente oh cazzo no in verità ti fai il blocco esatto ti fai il blocco non ti fai il lingotto fai il blocco c'è 9 lingotti e siccome qua dentro c'erano due lingotti liquidi perché ho messo un solo pezzo per adesso si è sciolto e qua sono due lingotti quindi qua dentro questo fluido sono due lingotti di ferro poi può essere usata se noi prendiamo questo libro qua che mi è capitato l'inventario a caso se guardi c'è scritto anche come creare degli alloy cioè puoi fondere due materiali diversi insieme e si creano dei materiali eh sì tu puoi fondere due materiali diversi insieme tipo copper e aluminium ecco adesso guarda abbiamo 70 lingotti 70 lingotti tutti adesso le ha fatti è sì perché li ha messi tutti insieme che bello no bello io le amo queste cose non so adesso poi con questo fai con questo ferro faccio un po' di automatizzazione mi dai ferro le prendo io dimmi ferro eh cratami hopper 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 a manetta ok comunque adesso possiamo fare questa cosa ma ci sono gli zainetti tipo che posso metterci tutto in che senso sì eh perché mi serve cioè non mi serve a me mi aspetta lo vorrei tantissimo perché mi infido mettermi letter 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 ti serve letter se vuoi letter eh no 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 se vuoi letter vai nel nether che fa anche rima e un cd imp che danno la letter cazzo è è un coso e mi servono due chest è un coso è tipo un coso strano che ti danno che ti dà la letter ma mi sta frizzando aspetta ti sta frizzando forse sarà niente anche comunque adesso io ti dico che lo lasciamo qui poi lo lasceremo qui tutta la notte e ci farei materiali e te sale spontaneo ma ce ne servono due di hopper si lo so adesso ho fatto l'altro ma te sale a scontare una questione i rubinetti eh per aprirli come partono eh allora noi possiamo craftare siccome queste smelterie sono mod compatibili cioè sono compatibili con tutte le mod quindi sciolgono anche il copper eccetera ma a parte quello noi possiamo noi possiamo mettere un qualsiasi tubo che trasporta i liquidi e se noi lo mettiamo tipo se noi mettiamo un qualsiasi cazzo un tubo che trasporta i liquidi lo mettiamo lo mettiamo al posto del rubinetto e mi sono incastrato ecco se noi lo mettiamo al posto dei rubinetti pratiche si mollano da soli insomma gli hopper sotto e gli hopper sotto i calderoni fanno uscire da soli i blocchi io l'ho notato ecco è un'altra cosa che ti stai chiedendo se noi tipo mettiamo dentro un po' di ferro e non ce n'è giusto per fare i blocchi eh e quindi adesso che cazzo faccio adesso appena ci scioglie tutto sto ferro ti faccio vedere allora comunque ti faccio vedere un'altra cosa figa allora ti ho detto che se noi mettiamo due materiali diversi lo posso fare ti prego no se noi mettiamo due materiali diversi si sciolgono si sciolgono in maniera diversa no e allora se noi mettiamo tre copper e un allume quindi io per adesso metto 20 metto perché il rapporto è uguale 25 e 20 allora se noi mettiamo 5 e 20 alluminum ok vedi che ci sono 5 e 20 qui dentro 1 2 3 6 per 3 18 1 2 3 4 5 6 7 vabbè sono 5 e 18 ma chi se ne fotte ecco siccome l'ha detto il libro e siccome so che si fa così quando questi si scioglieranno quindi l'alluminio quindi l'alluminio si sta sciogliendo più in fretta per il resto quando si scioglieranno si fonderanno insieme i due liquidi infatti quando quando metteremo tipo uno per la notte per lasciare i materiali a pubblicarsi attenzione a non mettere mai due materiali insieme che si possano fondere tipo copper aluminum perché se no tipo si fondono insieme e vengono fuori altri materiali materiali più belli sì però se noi vogliamo usare il copper per craftare non possiamo ecco allora guarda l'alluminio si è sciolto posso sapere una cosa posso sapere una cosa ma se io premo di qua il rubinio eh non succede un cazzo non farlo no no voglio provare eh te lo faccio provare fra un attimo eh questi tinker castle table eh adesso ti faccio vedere sono utilissimi sono quasi più utili di questi ma dove l'hai messo la tannica è questa qui la tannica è qui sotto guarda ah è qui sotto e c'è questo che sta pompando lava yeah figo e è proprio quella cosa lì poi ne metto due al posto dei rubinetti così sono automatici no oh no 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 ho messo ho messo il liquido che avevo appena fatto pensavo ci fosse dentro ancora ferro spero di averne fatto un po' un blocco almeno dai porca troia non si fanno non si fanno i blocchi allora il copper e l'alluminio che vi ho messo dentro si sono fusi insieme e hanno formato questo materiale qua che io pensando ci fosse il ferro ancora in fondo ho messo qua al posto del ferro più sbaglio mi serviva della fornace allora adesso quindi faccio il blocco e lo riscivolgo yeah non morire mello per piacere allora adesso abbiamo l'alluminum brass poi mollare tra il resto il blocco è strafigo guarda secondo me e poi usarlo anche per i beacon volendo allora adesso lo risciogliamo perché mi serviva mi serviva liquido ma c'è ancora un po' di liquido all'interno quindi posso farti vedere allora guarda io adesso prendo un lingotto qualsiasi ok lo metto qui dentro ok poi metto ah è tipo stampo esatto fai lo stampo prendi lo stampo e adesso noi possiamo farci i lingotti di qualsiasi cosa allora un'altra cosa queste e tutte queste cose qui sono considerate pattern per quello che ho fatto la pattern chest e noi se tu vuoi farti se tu vuoi farti un martello con il ferro per dire basta che basta che ti fai la e che cazzo è la cobblestone mi serve il cobblestone basta ce l'ho io ah vabbè ce l'ho anch'io basta che ti fai un martello guarda della hammerhead di cobblestone quindi questa ok ti fai questo pezzo qua di cobblestone solo il pezzo poi ovviamente guardi poi lo metti qua fai lo stampo non abbiamo alluminum brush cg fai lo stampo e con lo stampo questo non serve più e lo stampo puoi metterlo lì dentro dove qui o dentro adesso la cesta tanto non ci serve poi in un prossimo episodio ti faccio ti faccio il martello strafigo e quindi ora posso prendere lingot cast e metterlo lì esatto aspetta ma se il lago finisce di lava basta spostare la pompa e se poi non fa più le pompe eh boh chiamiamo zanna e io la tengo quello a fare ciò quindi la nazione è calmata in causa e ne è male quindi ne vai prendere due log di legno sì quindi io direi che è un buon punto per l'episodio per chiuderlo cosa dice il signor angelo yes ma quindi per questo episodio per questo episodio episodio con tante p e tante s con tante p e tante s è tutto io metterò qui un po i materiali a smeltare faccio un po di roba automatica e noi ci vediamo e ora vedete il pvp tolto la testa è evito per questo episodio è tutto io prima dei prossimi che caricherò la visione ho detto io ho sbagliato io vi ringrazio per la visione e vi rimanete i prossimi che caricherò ciao ragazzi fuck you ciao